Quest'anno vi invio gli auguri di Buon Natale dal carcere di Trento davanti al presepio fatto dai detenuti. È geniale l'idea che hanno avuto di collocare la capanna in periferia e è dalla periferia della capanna che poi viene alimentato tutto il presepio, icona della vita dell'uomo che viene alimentata da quel dio della periferia che anziché stare in alto sia abbassato da quel dio della periferia che ci insegna che amare e alzarsi il mattino e destinare la vita a qualcuno. A tutti auguro davvero un Buon Natale, un Natale dove la nostra vita non viene trattenuta ma viene regalata e offerta agli altri. Buon Natale a tutti!